Perché fare dei pezzi nuovi quando ci sono già tanti pezzi belli? Però allo stesso tempo uno dice ogni tanto vorrei fare una uscita nuova ed è lì che mi sono venuti in soccorso, non è un caso che fossero qui stasera ad aprire la serata mi sono venuti in soccorso da Roma, il Milano 84 Chiedo scusa ma siccome ho una certa età e questa è la prima volta che canto questa canzone l'ho cantata in studio, in due ore abbiamo finito e poi non l'ho più cantata e allora dicevo la sintesi di quello che stavo dicendo è che perché fare pezzi nuovi quando ci sono già tanti pezzi belli? Ecco qua, con i Milano 84 mi hanno detto perché non facciamo una cover di battiato? Ed eccoci, per cui Milano 84, Fitzry, Johnson, Rigueira, Summer of the Solitary Beach Allora, un'altra parte su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia caldo tropicale dal mare è che se il numerico quando il sole ci nutriva di tanto in tanto un brido copriva le distanze è l'area delle cose diventate irreale, irreale mare, 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 voglio mirare la forza di andare, voglio mirare via, 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 da queste spalle portami l'ontano, un funerone portami l'ontano, un'azione che lupisce che viene stessi, io guardo trezzi a mance, mentre lontano il minatore Bruno tornava, tornava mare, 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 voglio mirare portami lontano, un funerone via, 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 da queste spalle portami lontano, un funerone dormito traveled è vorrò tornare voller Giornale, giornale Giornale, giornale Giornale ovviamente non è su disco perché non si usa più purtroppo, ma la trovate su tutte le piattaforme, cercate Milano 84 e poi loro sono di Roma e si chiamano Milano 84 perché si ispirano agli anni 80 e identificano Milano nel 1984, periodo importante. Pensate che io andai a abitare da Torino e migrai a Milano proprio nel 84 e devo dire e per quanto io non abbia lo dico piano, amato Milano e però all'epoca era veramente una figata Milano 84 e già che siamo in vena di fare cover perché non farne un'altra